Al terzo giorno di apertura della piattaforma telematica per l'adesione al piano vaccinazioni riservato ai cittadini campani che hanno 80 anni di età o più, è stata già superata quota 50.000 iscritti. Il link per prenotarsi è www.https.soresa.it. Possono aderire anche coloro che compiono gli 80 anni nell'arco del 2021. Al momento dell'adesione è necessario fornire un indirizzo e-mail e un recapito cellulare che saranno utilizzati in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. La piattaforma richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via SMS. Sarà cura del centro vaccinale procedere con la successiva convocazione che avverrà al termine della prima fase della campagna, quindi al termine della somministrazione delle seconde dosi a chi si è vaccinato con la prima.